Sicuramente noi volevamo vincere una partita che era molto importante, non ci è andata come volevamo, non abbiamo ottenuto anche la lucidità in certi momenti importanti per portare la vittoria, quindi siamo dispiaciuti cercando di ripartire, di vedere ancora dove dobbiamo migliorare, dove possiamo mettere l'accento per dare un salto di qualità che ci consenta di vincere più partite. Sì, è matematicamente possibile, ma noi già da tempo diciamo che noi dobbiamo pensare a quello, dobbiamo migliorare, dobbiamo andare partita dopo partita, dopo se si arriva, si arriva, deve essere sempre l'obiettivo, però è inutile pensarci ai play-off quando dobbiamo pensare solo a Padova, fare una buona partita con Padova, ottenere una vittoria e dopo pensare all'altra, una alla volta. Sì, è una settimana dove continuiamo a lavorare certe cose che dobbiamo migliorare, dopo avremo un appuntamento con piacenza per fare gioco contro un'altra squadra, per tenere alto il livello e il ritmo di gioco e arrivare pronti a Padova. Sono due settimane che cercheremo di approfittare per migliorare certe cose. Noi non siamo quelli che come abbiamo giocato a Castellana, però bisogna dimostrare tutte le partite. Noi abbiamo giocato penso molto bene con le grandi, con Perugia, con Modena, abbiamo giocato bene con Latina, con tante partite di fila venivamo di vincere con Sora, di fare il 3-2 con Modena prima di Castellana. Se noi tenevamo quel livello, sicuramente tenevamo di più. Il problema non è solo del livello di gioco, è anche di costanza, di essere regolari.